La nuova raccolta differenziata a Marsala non inizia nel migliore dei modi. La città lilibetana infatti domenica mattina, al suo secondo giorno dall'introduzione del nuovo sistema di raccolta, si è svegliata con tanti sacchetti sparsi per le strade e la nostra redazione lo ha documentato attraverso video e foto. È presto per poter fare un bilancio, ma indubbiamente questa innovazione apportata dall'amministrazione comunale parte in salita. Eppure cittadini marsalessi sono già abituati a differenziare i propri rifiuti. Eppure il nostro comune è stato premiato recentemente per la virtuosità con cui si è raggiunta un'alta percentuale di differenziazione dei rifiuti. Allora cosa non sta funzionando? In molti non sopportano il dover gestire nuovi bidoncini di colore diverso. Molti temono soprattutto nei condomini che l'esposizione di così tanti mastelli non sia la soluzione più efficace perché potrebbero essere preda di animali, di incivili che possano introdurvi rifiuti in maniera arbitraria o ancora trascinati dal vento per strada. Poi c'è anche da sottolineare che molte famiglie ancora non dispongono di tali mastelli e debbono recarsi negli appositi punti di distribuzione per entrarne in possesso dopo essersi sobbarcate interminabili code. Timori che ci possono stare ma abbandonare i sacchetti di rifiuti differenziati per le strade cittadine non è un bel segnale di civiltà. Sicuramente non bisogna demordere ma sensibilizzare quanti commettono questi reati a differenziare i propri rifiuti rispettando i calendari per l'esposizione degli stessi e farlo utilizzando gli appositi mastelli di colore diverso in base al tipo di rifiuto. Marsala non merita questo spettacolo, teniamola pulita, rispettiamo l'ambiente.